I tarifte della mensa, partendo però dal presupposto che le attuali tarifte della mensa sono le più basse che nonostante anche la emissione del tarifte, le più basse che ci siano messe agli apriensi, perché il prezzo passa dalla manca a 5 euro e qualcosa del genere a 3,94 euro nel prezzo pieno. E poi ovviamente nelle tarifte inferiori anche qui ci sono le diminuzioni, l'ultima fascia è 0,99, mentre il tarifta Marcas era 1,28. Quindi le tarifte sono già tuttora le più basse che mai a primi ci sono state. Quindi vediamo come meglio, e siamo in un piano di equilibrio, secondo tutti, ottenere una ripartizione di questo, lo alzeremo entro un paio di giorni. Quindi la seconda questione sugli aspirini, abbiamo anche, diciamo, che in effetto attuativo sui bonus ancora non c'è, e quindi verificheremo quando, dove, come, in che modo, per poter ottenere, diciamo, e capire, che regolamenti e che in effetti attuativi applicherà per vari bonus, e se questi saranno necessari, facendo in questo momento una verifica con tutto quello che c'è di altri, quindi volevo semplicemente dire così.